giudicarmi bentornati in un nuovo video in questo video faremo un vlog da quando stiamo scendendo infatti stiamo nel portino a quando ci costa fino a quando ci costa dove vai? aspettami si infatti puzza davvero tanto questo sheepy e voilà un mondo wow raga sai che c'è un posto per me non ha nulla senso se poi non ci sei te vieni via con me ehm Anna ciao raga vi è piaciuta la floris challenge? eeeh la florislava vi è piaciuta? simone a proposito la florislava 10 8 7 no raga è proprio stupida wow brava brava rimani a scendere no rimani la ciao tutto è sporchi di me ma simona triste è triste dai dai vai prova prova poi ti faccio dire un'altra cosa raga abbiamo inventato un'altra flor the floris lavanda ora vi facciamo vedere in cosa consiste simona the floris lavanda 10 9 8 7 6 in mezzo alla strada cioè rendiamoci conto piccate la sotto vi prega stefano brava il pavimento è lavanda il pavimento è lavanda raga oh cioè dico io vieni via con me vieni via con me woooo Anna do floris lavanda do floris lavando lavanda non lava lavanda io mi vado a mettere per strada però questo è Mambo Redonia mamma quella ragazzina deve cadere con quelle ciabatte io mi sto facendo un nuovo un nuovo asilo stanno facendo la non era a tirare molla quello tira la molla un tombino le mie scolpe ma sta sempre in te è per te dai allora siamo quasi arrivati a casa mia cioè due secondi vieni via con me raga vi faccio la mia nuova cover guardate vi faccio vedere la mia nuova cover un attimo no mi piace è bellissimo raga wow ciao io sono toccata verso così cioè serve di muovere cella no triste tristessa non triste occhiali perché perché cadete mantieni un po' tu non mi ingozza ma non mi ingozza da notare che qui mi sono rotta da notare scusami qua scusami ti ti fa male si anche se lei ti fa male la testa cioè allora quando i graffi c'ho uno due ah raga vi faccio vedere un'altra cosa allora aspettate che giro la fotocamera vi faccio vedere una cosa facendo da florislava si è graffiata e si è fatto pure il livido nonno oggi ma il giorno che ieri abbiamo fatto o l'altro ieri l'altro ieri abbiamo fatto da florislava e oggi si è fatto questa e la garzettina piccolina è tutto qua vedi sembra che non mi sono lavata è tutto un livido questo è tutto un livido Nicole ciao Nicole io sto morendo e ui sono le 5 5,00 e noi siamo ancora in cibo cioè è tardissimo è tardissimo no dai ti sei così ti vedi e non ti stanchi sembra un mega celotto si sembra che sia andata a tu ho dovuto prendermi i capelli quando fai non schifo non avevo un'idea aspetta raga abbiamo fatto ho preso il bastone per i selfie cade tutto ragazzi cade tutto mi è avuto un estamento dopo quando stiamo fermi stiamo utilizzate ragazzi dove andate cosa? stimoncella c'ho la polvere nella verità c'ho la polvere ci sono molte persone appunto la macchina della polizia ragazzi ce ne andiamo? io ho fame ci vediamo dopo ci vediamo ci vediamo il video mi ci vediamo ciao ciao che cos'è?